È stato uno di quei molti capitani dell'edilizia politico-mafiosa che per decenni hanno messo la firma a quello che i manuali di urbanistica ricordano come il sacco di Palermo. A Francesco Zummo, imprenditore di ILE, con un passato da rappresentante di elettrodomestici, si attribuisce la costruzione di almeno 2.500 appartamenti che hanno cementificato la città. La confisca dei suoi beni da parte della DIA di Palermo, beni stimati in almeno 150 milioni di euro, aziende, immobili commerciali e abitazioni, complessi residenziali in Toscana e decine di conti correnti bancari, chiude definitivamente una vicenda giudiziaria durata 20 anni, trascorsi fra arresti, scarcerazioni, sequestri e dissequestri di quei beni. Gli investigatori negli ultimi mesi hanno ricostruito la complessa storia patrimoniale di Francesco Zummo, oggi quasi novantenne, rileggendo una relazione della Banca d'Italia scritta 20 anni fa e gli atti giudiziari di Giovanni Falcone, quelli in cui il nome di Zummo veniva indicato come prestanome di Vito Ciancivino e garante degli interessi economici di famiglie mafiose, a cominciare dai Ganci, famiglia di Cosa Nostra legata ai Corleonesi e altri imprenditori edili che a Palermo hanno riciclato i soldi dei clan. Il loro cemento ha alimentato fiumi di denaro foraggiando gli interessi dei mafiosi, la corruzione del sistema politico e burocratico e la clientela. I 150 milioni di beni ora confiscati a Zummo sono solo una sintesi di una storia palermitana, oggi testimoniata dalle tonnellate di cemento riversate su 5.000 ettari dell'area urbana.